Grazie a tutti. La campagna, Vincenzo De Luca, alla richiesta della responsabile del reparto Covid agropolese, dottoressa Rosa Lampasona, si è mostrato disponibile ad avviare l'iter. Ci sono gli spazi, c'è tutto. Questo è un ringraziamento a nome di tutti, perché è una cosa ottimale, anche perché non c'è un ottimo progetto doppio. Ci sono proprio gli spazi doni, anche gli ingegneri che sono. Però se è possibile, per gli anticorpi monoclonali. Cominciamo a partire con i monoclonali e la camera iperbarica, poi vediamo tutto il resto. Gli anticorpi monoclonali sono particolari tipi di anticorpi prodotti con tecniche di DNA recombinate, a partire da un unico tipo di cellula immunitaria. Gli anticorpi monoclonali sono molto sfruttati in ambito clinico, sia per scopi diagnostici che per scopi terapeutici. Gli anticorpi monoclonali, infatti, possiedono un'affinità altamente specifica per un determinato tipo di antigene. Essi legano ad esso, consentendo in questo modo di ottenere una marcata risposta immunitaria nei confronti di quella tossina, proteina, mediatore chimico, cellula maligna o agente patogeno che costituisce il target della terapia.